Ecco, siamo già in tempo di bilanci. Credo che otto mesi siano un tempo sufficiente per poter cominciare a stilare i primi bilanci dell'attività quotidiana della Giunta Scopelliti. Il Presidente sta cercando di effettuare delle inversioni strutturali a 360 gradi in tutti i settori, a cominciare dalla sanità e poi perferire a tutto il resto. Per quanto riguarda l'area specifica della cultura, quella che il Presidente ha inteso affidarmi, per quanto riguarda la scuola, che è un terreno strategico, anche un luogo di grandi tensioni sociali, abbiamo lanciato il Libro Verde sulla scuola, che è per porre al centro del dibattito culturale, del dibattito politico della nostra Regione, quest'area strategica dello sviluppo. Stiamo intervenendo su quelli che sono i nodi di fondo, dall'edilizia scolastica al precariato, al dimensionamento, non trascurando invece quelli che sono gli obiettivi di qualità. La verifica di quello che è il funzionamento delle scuole, con un'indagine affidata alla Fondazione Agnelli, che ci darà verso il mese di aprile un resoconto di come le singole scuole calabrese di tutta la Regione siano in grado di poter preparare i giovani all'accesso universitario. Ovviamente mi riferisco alle scuole superiori. Allo stesso percorso faremo anche con l'imbalzi per verificare la qualità delle scuole medie e delle scuole elementari. Così come stiamo investendo molto sul terreno dei beni culturali, dove abbiamo programmato un investimento di quasi 30 milioni di euro, i cui dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa entro fine mese dal Presidente Scopelliti. Partiamo dalle grotte di Papasidero fino ad arrivare alle ferriere di Mongiana. Si tratta di un intervento significativo, forse il più importante, che sia mai stato effettuato con fondi diretti della Regione nei suoi 40 anni di vita. Per quanto riguarda poi la cultura, nell'estate calabrese abbiamo orientato direttamente o indirettamente circa 15 milioni di euro che sono serviti per rilanciare l'economia e per cercare di fare sviluppare questa area veramente fondamentale, perché lo sviluppo economico si trea oggi attraverso l'offerta culturale. Non a caso stiamo realizzando tutta una serie di interventi, dal censimento dei teatri, al censimento dei musei, alla definizione di linee strategico-operative dei fondi POR, dei fondi comunitari per orientare decine di milioni di euro in questo settore. Così come orienteremo, individueremo durante il corso dell'anno, degli eventi che saranno dei grandi attrattori economici, pochi eventi ma di grande qualità per creare economia, creare turismo, creare immagine. Per quanto riguarda poi infine l'area della ricerca, sono in essere due importantissimi bandi, uno di 32 milioni di euro e l'altro di 150 milioni di euro, il primo regionale e il secondo ministeriale, che serviranno alle imprese, alle università e ai centri di ricerca che se hanno buone idee possono essere validamente, seriamente supportate. Quindi stiamo cercando, con le tante difficoltà a tutti i note, di dare un'immagine, un'idea concreta di una Calabria diversa che usa la cultura come volano dello sviluppo. Ecco, Assessore, possiamo dire che la Calabria non più solo è emergenza, ma si riesce, quando si vuole, a pianificare, a programmare con un certo metodo e magari con dei risultati positivi. Infatti noi intendiamo gestire il settore della cultura con poche leggi, una legge per settore, una legge sui beni culturali, una sul diritto allo studio, una sulla ricerca e l'altra sulla cultura, in maniera tale da poter programmare per tempo e bene, stabilizzare i finanziamenti e già questa è una grande rivoluzione per quanto riguarda le incertezze della macchina istituzionale calabrese. Il Presidente Scopelliti ci ha invitati fin dal primo giorno a guardare lontano e noi stiamo cercando di fare questo. Grazie.